da una regione all'altra da una puntata all'altra da un viaggio all'altro ma sempre solo con Agri Sapori il piacere del buon gusto anche per questo appuntamento alle mie spalle uno spettacolo naturale incantevole abbiamo raggiunto il Friuli Venezia Giulia perché avremo modo di incontrare delle particolarità, dei sapori delle sorprese di questa terra meravigliosa ma rimanete con noi perché là avremo modo di fare un viaggio entusiasmante bene amici cari cominciamo dunque il nostro viaggio sono con il signor Giuseppe Damiani che è il direttore del consorzio turistico Piancavallo Dolomiti Friulane montagna leader poi spieghiamo bene il tutto però signor Giuseppe noi siamo all'interno di un posto meraviglioso nel comune di Magnago dove ci troviamo? Magnago è un po' il centro di tutto il nostro territorio cioè di quello che lei ha definito prima Piancavallo Dolomiti Friulane un territorio che è la parte più occidentale della regione Friuli Venezia Giulia è un territorio molto complesso un territorio che ha delle vallate molto strette rocciose con orografia molto castigata e molto dura verso invece una forma di territorio più verde verde di collina più dolce per arrivare poi a una parte di territorio che è veramente escezionale secondo me dal punto di vista botanico che è tutta la parte di pianura che è quella dei Magredi noi qui siamo a Maniago e principalmente siamo a Maniago che è la città delle coltellerie e siamo il museo della coltelleria quindi questo è l'altro aspetto più importante Maniago è la capitale della produzione dei coltelli in Italia quando dico coltelli ci sono tutti gli strumenti da taglio e quindi anche tutti gli strumenti per l'agricoltura però è una tradizione che risale a molto tempo fa sì, diciamo che è una tradizione che parte in epoche molto storiche diciamo di tutto il periodo del Medioevo e per arrivare alle prime forme di industrializzazione in cui illuminato diciamo del territorio che era questo conte Nicolò di Maniago ha l'intuizione di fare la derivazione dei corsi d'acqua per ingegnerizzare e sfruttarla come forza motore e da qui poi di conseguenza tutto quello che nasce in passato diciamo con un proliferarsi di piccole botteghe artigiane e la pratica del fare questi attrezzi aveva portato i fabbri maniaghesi a individuare una maniera per dare più resistenza al metallo che abbiamo utilizzato per fare la falce e anche per avere una tenuta di filo nettamente superiore a quello che normalmente in quel periodo veniva fatto e l'ingegno cosa aveva portato? a scoprire che utilizzando il grasso del maiale quindi scaldando la lama in una certa maniera e poi raffreddandola all'interno del grasso del maiale conferiva alla lama stessa questa resistenza ecco, lasciamo invece i coltelli parliamo un attimo del consorzio e di Montagna Leader è un territorio che noi promuoviamo o vendiamo come un luogo deputato al turismo attivo quindi una palestra al cielo aperto dove in tutte le stagioni dell'anno riusciamo a fare una serie di attività fisiche e non solo fisiche quando dico un turismo attivo è attivo sia dal punto di vista fisico quindi nella pratica degli sport ma fisico anche mentale ritornando invece agli aspetti più ludici diciamo così quelli che possono essere l'aspetto fisico abbiamo anche qui, siccome la complessità del territorio ve l'ho detta diverse possibilità cioè l'invernale perché abbiamo uno dei cinque poli che in regione diventano poli bianchi cioè il piancavallo dove è possibile fare un'attività scistica dove c'è una complessità di piste per fare le attività sportive più tranquille che sono la discesa normale piuttosto che le ciaspole piuttosto che i percorsi di trekking con gli sci di sci nordico ma si possono fare anche cose un po' più estreme come il freestyle oppure durante il periodo estivo per andare nella stagione verde dove è possibile utilizzare gli impianti di risalita per fare il downwheel quindi le biciclette a seguito per buttarsi tutto il resto del territorio grandi passeggiate particolarità di fare canywing Direttore noi avremo modo di incontrarci in più occasioni questo nostro percorso invece lo abbiamo voluto dedicare lo vogliamo dedicare a quelli che sono i sapori delle comunità che troveremo in questi giorni beh qui il buon vino non manca i buoni cibi non mancano Sì, di solito noi diciamo è un territorio come ho detto prima avvocato a stimolare tutte le parti sensoriali del nostro corpo lasciamo sempre per ultimo il palato perché diciamo se volete provare le emozioni del palato venite a trovarci che ve le facciamo provare ad assaggiare Allora direttore io la ringrazio moltissimo amici cari rimanete con Agri Sapori perché il nostro percorso porterà nelle vostre case i prodotti tipici, i grandi vini soprattutto quelli autoctoni ma non solo e poi parleremo anche in qualche momento dell'appuntamento di ricezione turistica e allora rimanete con voi Abbiamo raggiunto il comune di Cavasso Nuovo e siamo all'interno di un locale storico che fra pochi istanti vi presenteremo prima però introduco Filippo Bier perché con lui conosceremo un prodotto storico tipico e tradizionale di questa terra Filippo Caro questa è la famosa pitina Pitina, esattamente un salume che si risale ai primi dell'Ottocento e si faceva, si era iniziato a fare nelle nostre montagne sia in Valtramontina che in Valcellina e normalmente proprio con le cani di capra la capra perché era l'animale che si allevava e si allevava in montagna in quanto la mucca aveva bisogno del fieno d'inverno aveva bisogno di foraggio le nostre montagne non hanno grandi pascoli c'è molto bosco per cui la capra veniva proprio utilizzata come l'allevamento per uso familiare però la capra a un certo momento bisognava cambiarla dal gregge se ci ottenevano quelle giovani e quelle più anziane e quelle ormai non più produttive non si potevano buttare via e quindi l'ingegno qual è stato? quello di trasformare le carni diciamo mondate, pulite dal grasso, dai tendini e da tutto venivano, cioè si manteneva solamente curava solamente la pura polpa, il magro e mescolato con una piccola parte di lardo si formano proprio queste polpettine di carne quindi con del sale, del pepe, del vino, dell'aglio ecco io vedo che ha una forma particolare ma anche una procedura di produzione particolare perché c'era anche la difficoltà nel trovare i budelli non si poteva insaccare per arrivare al paese più vicino dove si poteva per dire trovare sì e no forse un po' di lardo di maiale o le budella bisognava camminare tutta una mattinata quindi si voleva un giorno di cammino e quindi cosa si hanno escogitato? proprio questo sistema invece di utilizzare il budello utilizzavano al posto del budello la farina di mais cioè viene impanata, infarinata nel mais, nel grano turco dopo il problema era la conservazione di conseguenza venivano messe vicino al fuoco quindi c'era proprio il camminetto e sopra c'erano delle tavole di legno, delle graticole dove venivano sistemate le pittine appena prodotte e il calore del fuoco e il fumo le asciugava e dava anche questo aroma, questa caratteristica inoltre un anziano mi diceva che è una cosa anche curiosa, bella Filippo, sotto il camminetto c'era l'unico posto dove non arrivavano le mosche con Filippo abbiamo dunque presentato la pittina ma ho anche detto che siamo all'interno di un locale storico una trattoria storica questo signore che si chiama Daniele Corti che in friuliano però si dice Danel Danel, Danel E il titolare, ho detto locale storico pluripremiato, riconosciuto da molti colleghi Sì, effettivamente è così e noi siamo qui da 37 anni facciamo i ristoratori e niente, siamo arrivati a questo punto grazie a tutti quelli che mi hanno premiato anche quest'oggi noi ci limitiamo alla pittina però lo facciamo proprio ci facciamo il fazzoletto come si dice il nodo perché torniamo perché io so che qui fanno delle cose per esempio quello è un prodotto tipico quella cipolla come si chiama quella cipolla di? cipolla rossa di cavasso hai visto però qua che cosa c'è? allora qui abbiamo fatto una polentina tenera in parte abbiamo rosolato due fettine di pitina fresca con il burro di malga ecco le abbiamo saltate e cucinate poco messe sopra la polentina poi della ricotta di pecora fusa dello stesso burro e appoggiata sopra così per guarnizione hai visto che meraviglia beh cavoli peccato che da casa non lo possano sentire ma è uno spettacolo veramente per l'occhio per il naso e sicuramente per il palato ma quello lo faremo dopo a differenza dicevo a differenza di questa questa è stagionata questa invece è fresca va fatta a questa maniera trattoria dei cacciatori bravo complimenti grazie ci troviamo nel comprensorio territoriale di Pinzano al Tagliamento e sono con il signor Emilio Bulfon allora Emilio prendiamoci tempi giusti perché lei ha una storia bellissima da raccontare io mi sono informato lei è stato forse il primo o comunque uno dei primi in Italia che ha compreso l'importanza di riscoprire ritrovare e valorizzare i vitigni autoctoni sì noi abbiamo incominciato negli anni 70 di questi vitigni abbiamo notato nel territorio delle viti secolari che stavano scomparendo che coltivavano ancora quelle poche persone anziane rimaste sul posto dall'immigrazione però ci hanno dato la possibilità a noi di prendere le gemme portare dai vivai a Rausedo che sono noti praticamente in tutto il mondo e abbiamo avuto la possibilità di fare nuovi impianti e di lì abbiamo cominciato a coltivare questi vitigni del territorio abbiamo salvato un patrimonio genetico importante questo però produrre fare i buoni vini era interessante ma però bisognava anche sotto l'aspetto commercializzazione far notare queste varietà che vini abbiamo trovato che uve abbiamo trovato uve praticamente che si coltivavano col microlima solo in questo territorio si parla per esempio di dei vini bianchi Ucelut Stiarling e Cividin e dei rossi praticamente Cianorie Forgiaring e Piccoli Neri e dopo la Cordenossa è venuta il suo seguito e quindi vitigni secondo me che li hanno abbandonati perché è venuta fuori la moda dei vini francesi Sardonei, Pinot e Sauvignon perché producevano di più e quindi quelle volte avevano bisogno di quantità non di qualità e quindi sono stati messi da parte quindi noi abbiamo avuto la possibilità di mettere sul mercato dei vini praticamente genuini della varietà tipica noi abbiamo avuto la fortuna che un noto giornalista Ise Benini ha fondato la rivista Il Vino negli anni 70 e ci ha mandato Amedeo Giacomini un scrittore noto non solo in Friuli ma in tutta Italia a fare dei servizi su questi vitigni ha pubblicato diversi articoli su questa rivista e di lì è partita un po' la conoscenza di questi vitigni Vitigni autoctoni sono veramente la ricchezza del vino italiano mi spiego è quello che ci può contraddistinguere nel mercato mondiale che ormai lo sciardone lo troviamo dappertutto anche dietro a casa c'è uno che fa sciardone o dall'altra parte del mondo c'è uno che fa sciardone però i vini che lei ha citato le uve che lei ha citato le abbiamo solo qui Sì, quello è importante perché tu valorizzi un territorio quando lei vede che a un certo punto parte gente di Vienna da Monaco di Baviera da Graz per venire solo a prendere questi vitigni devono riempire la macchina di questi vitigni autoctoni del territorio dei formasi dei salumi a un certo punto tu crei questo ambiente familiare che è molto importante e noi cerchiamo queste cose quando dicono è un vino completamente diverso mi dà soddisfazione di questo Siete contenti? Sì, lei è contenta? Siamo contenti anche perché riusciamo a vendere il prodotto ogni anno vinifichiamo da noi abbiamo un'azienda con un'azione familiare facciamo circa 80.000 bottiglie riusciamo a venderle tutte e il 50% in azienda l'altro fuori quello è importante Come ci ha raccontato il signor Emilio bere i vini sul territorio vini del territorio sul territorio sicuramente è una filosofia aziendale a tal proposito questa volta con me c'è Lorenzo che è figlio di Emilio poi c'è anche tua sorella in azienda dire autoctoni è una cosa semplice a volte così davanti a una telecamera ma quali sono poi le difficoltà che incontriamo quando andiamo a vinificare e a produrre come vinificazione può essere simile agli internazionali anche se magari ci sono alcune varietà che vegetano di più hanno una produzione un po' più difficoltosa quindi c'è da fare di radamento da pulire però siamo ai livelli degli internazionali tra le tante varietà che avete riscoperto qual è quella che più ti dà soddisfazione? per noi è il Piccoli Neri che è un grande vino che è una grande struttura che si può abbinare con sia varietà di cibi dalle carni bianche alle carni rosse e lo esportiamo in tutto il mondo ecco voi come realtà produttiva di vini autoctoni avete anche una struttura ricettiva sì allora insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di completare l'offerta della cantina facendo un alloggio agrituristico sempre appunto per portare la gente sul territorio che volendo assaggiare i vini poteva anche fermarsi sul territorio a dormire e così visitare quello che c'è intorno qui vicino c'è il Tagliamento che è un fiume che offre uno spettacolo straordinario infatti noi puntiamo molto sul tagliamento perché il tagliamento è uno degli ultimi fiumi a carattere torrentizio che c'è in Europa e vengono da tutto il mondo per studiarlo quindi noi cerchiamo di portare gente proprio a vedere il tagliamento e poi tutto il resto insomma e noi vi facciamo i complimenti grazie ancora a Lorenzo a Emilio Bulfon alla famiglia Bulfon però prosegue questo nostro viaggio in terra fulana la ricezione turistica territoriale non solo per trascorrere la notte ma anche per mangiare i prodotti del territorio abbiamo percorso qualche chilometro siamo a Solimbergo che è una frazione del comune di Sequals perché perché ci dicono che qua ci sono dei tartuffi meravigliosi noi dicevamo ma in Friuli i tartuffi invece li abbiamo trovati ma attualmente sono con la signora Patrizia che di cognome me lo ricordo fa Mare Scutti Mare Scutti al Sasso d'Oro che è un agriturismo molto bello tartuffo perché il tartuffo? ma credo che mio padre 17 anni fa abbia iniziato così come sfida la coltivazione di questa tartuffaia forse anche non sperando di raccogliere questo questo bel tartuffo invece la cosa è riuscita e l'abbiamo lo proponiamo normalmente nel nostro agriturismo come cucina ecco mi citi qualche piatto con il tartuffo dai due bei primi beh si fa il risotto si fa la tagliatella e sono le cose che vengono meglio con il tartuffo però puoi anche i dolci qua eh? sì certo noi abbiamo un'azienda che ha un po' di tutto nel senso che c'è della frutta quindi coltiviamo diverse cose e usiamo tutto quello che viene dalla nostra azienda agricola per fare i dolci per fare i primi i secondi anche la carne mi racconta quel piatto tipico che è il musetto con che cosa? eh il musetto è provada adesso in autunno si propone perché è un piatto che è molto adatto la provada è un piatto tipico friulano e il musetto anche questi pani? questi pani sono prodotti dal marito di mia figlia che hanno un forno un forno biologico cucinano il pane nei forni a legna come si faceva una volta grazie Patrizia al suo risotto alle sue tagliatelle con questo meraviglioso tartufo che papà Renato cerca e trova con le sue cagnette proprio in tartufaia solimbergo è una frazione invece di sequals e io sono con Renato Mare Scutti questo signore all'interno di un noccioletto lui è in attività e perciò se si muove non vi fate problemi stiamo cercando il tartufo nero pregiato allora che tartufo è quello che si trova qua Melanosporum nero pregiato Renato lei chiaramente ha il cane a Chira sì a Chira e poi ho sua figlia Thea sono due cani addestrati a tre mesi erano già scavavano già il tartufo a tre mesi quanto ha a Chira adesso? nove anni e lei da quanto tempo è che va a tartufi? sono 20 anni l'ho sempre avuta nella testa questa tartufaia da fare la tartufaia quando sono venuto un poco più anziano diciamo ho avuto modo di avere il terreno a disposizione per poter fare le tartufaie e se le tartufaie sono fatte con tutti i crismi che si deve producono molto bene ma come si fa una tartufaia? dunque bisogna avere il terreno la prima cosa il terreno è basilare e lì si fa normalmente per fare una cosa corretta si deve fare l'analisi del terreno in base all'analisi del terreno ci consigliamo il tipo di piantine di tartufo da mettere giù è il tipo di tartufo e il tipo di piantine micorizzate questo vuol dire che non tutti i terreni chiaramente sono adatti no assolutamente no qui tutte nocciole? no qui abbiamo nocciolo più abbiamo le querce le farnie tutta la famiglia delle farnie ho sentito che lei raccontava che il tartufo tende a non far crescere poi l'erba beh sì solo questo che è il melanosporum produce un ormone man mano che viene avanti le radici fa morire l'erba se parliamo invece di mercato è un tartufo di valore eh sì questo qui è un tartufo di valore dipende anche dalla quantità che c'è sul mercato quest'anno come stanno andando le cose? quest'anno ancora non sappiamo perché la raccolta comincia il primo di dicembre insomma in cucina come me lo godo? ma sempre crudi tutti i tartufi nero pregiato e anche il magnatum si devono mangiare crudi quando viene lavorato il tartufo vuol dire che non è una qualità eccellente così com'è natura via Renato io la ringrazio molto lascio lavorare perché c'è qui Chira in pienazione e salutiamo anche la nostra cagnetta e vi invito a rimanere con noi grazie troviamo anche il comune di Sequals un comune famoso per i tempi del passato per le vittorie di Primo Carnera il grande pugile italiano ma oggi siamo qui per parlare dei tempi nostri di una realtà odierna nel mondo della produzione vinicola parliamo di grandi vini con me c'è la signora Fernanda Cappello qui c'è una storia non solo di bottiglie e di bicchieri ma soprattutto di vita perché la cantina nasce da un'idea del passato proprio di papà e mamma sì esatto alla fine degli anni 60 qui era un letto alluvionale dove non si coltivava assolutamente nulla e c'è stata l'idea portando l'acqua da parte del consorzio Cilina Meduna di poter fare del vigneto anche perché le terre il clima la zona diciamo è proprio favorevole a questa coltivazione questo sasso calcario dolomitico riesce a conferire veramente degli aromi particolari una sapidità una mineralità ai vini e legato anche alla zona così che è ai piedi delle dolomiti friulane dove le valli continuano a far venire l'aria e quindi questa escursione termica che c'è tra giorno e notte dà questo valore aggiunto questi aromi particolari ai vini che sono molto fini molto eleganti e profumati il mio obiettivo è proprio di puntare sulla qualità sulla qualità dei vari vini perché noi abbiamo tanti vini tante uve e queste vini nelle grave appunto vengono fatte come monovitigno e citiamoli magari ecco l'importante è il pinot grigio oppure ci può essere il sauvignon e il traminer che sono molto aromatici e che quindi qui in questo territorio si sanno esprimere in un modo molto particolare oppure ci sono vini internazionali come lo Chardonnay oppure proprio tipici della nostra cultura come il Friulano poi ci sono il Merlot e il Cabernet Frank che è un altro vino che qui viene molto erbaceo particolare molto tipico ecco senta Ternanda qui c'è un piatto bellissimo tra l'altro però so che all'interno di questa composizione ci sono degli ingredienti tipici di questo territorio perché c'è questo? ci divertiamo proprio ad utilizzare tutti gli ingredienti che sono del territorio quindi per esempio qui oltre alla cipolla rossa di Cavasso c'è il formale di Frant e la pittina che sono dei presidi tutti e tre sono dei presidi slow food tre ingredienti straordinari del territorio che Alex lo chef ci ha presentato unendoli in questo piatto meraviglioso al quale abbiamo abbinato un vino del territorio ecco con questo piatto io amo abbinare il traminer perché il traminer è molto aromatico speziato e quindi con degli aromi del genere come il formale di Frant o la pittina che sono particolarmente speziati aromatici ci sta molto bene e poi c'è questa dolcezza estrema della cipolla quindi il vino veramente si abbina in un modo splendido e ha questa freschezza che poi ti pulisce molto bene la bocca grazie per averci presentato la storia e la realtà della sua azienda a questo punto con il traminer e con il piatto non resta che dire in bocca al lupo continuiamo ottimismo salute ai vini friurani al bel vedere di Sequals ci ha aperto le porte ci ha accolto Silva delle case Silva cara avete preparato una meraviglia qui per le nostre telecamere pensate che saranno tre piatti tre ricette che hanno comunque un ingrediente comune del territorio ma tutto a suo tempo come va Silvia tutto bene? benissimo grazie sei pronta per elencare? sì senz'altro antipasto antipasto sfogliatine di mele cotte al forno con formaggio salato e un po' di mostarda di mele affettate poi messe a disidratarsi poi al forno chiaramente e poi il formaggio invece? è un formaggio salato spieghiamolo si fa nelle saline di Tramonti e della Val d'Arzino e non è salatissimo è un formaggio che può essere invecchiato e diventare duro in questo caso è stato fatto morbido lasciamo l'antipasto c'è un piatto tipico questo è molto tipico il chialchons il chialchons è un raviolo a mezzaluna viene fatto con latte tiepido farina e sale ci va l'uovo o non nell'impasto? pochissimo alcuni lo mettono alcuni non lo mettono vengono fatti dei cerchi di pasta dove viene in questo caso abbiamo inserito la mela con della ricotta richiusi fatti bollire e poi spadellati con un po' di burro pezzetti di mela e cannella e anche qui comunque abbiamo trovato la mela poi abbiamo un secondo piatto il secondo piatto è un maialino con cotenna in questo caso per cui il maiale rimane leggermente più morbido fatto in padella con delle mele a pezzetti e poi a parte vengono grigliate delle mele che accompagnano il piatto silva cara cosa abbiamo grattugiato? il crème eccoci che è una radice particolare io ti ringrazio moltissimo te e i tuoi collaboratori il tuo bel ristorante io completo così questo viaggio che abbiamo fatto diciamo nella parte pedemontana delle dolomiti friulane abbiamo dedicato prevalentemente il nostro appuntamento ai sapori di queste terre ma torneremo perché c'è tanto tanto da scoprire grazie dunque a Montagna Lidra al Consorzio Turistico a tutte le persone che hanno partecipato alla nostra puntata alla redazione di Agrisapori alla regia di Tony Gavazza ma è arrivato il momento di dare la linea a Roma per l'informazione del sistema camerale italiano grazie in Italia mancano informatici assistenti sociosanitari meccanici ed elettrotecnici ma anche esperti software di gestione aziendale e programmatori lo confermano le imprese monitorate dal sistema informativo Excelsior di Union Camera e Ministero del Lavoro che non riescono a reperire il personale adeguato alle loro esigenze tanto che i profili mancanti sono 47.000 un problema che investe sia laureati che diplomati le cui assunzioni quest'anno dovrebbero arrivare a quota 367.000 il 13% di difficile reperimento un paradosso stando agli attuali tassi di disoccupazione ma la situazione sta migliorando rispetto allo scorso anno quando gli introvabili erano 65.000 imprese che lamentano anche competenze non adeguate alle mansioni da svolgere che riguardano la formazione ma anche la capacità di lavorare in gruppo o la mancanza di flessibilità e adattamento nuovo boom di richieste di mediazione a ottobre negli organismi delle camere di commercio aumentato in un mese dell'8,4% con la reintroduzione dell'obbligo per alcune tipologie di controversi civili fa sapere Union Camere sono state depositate oltre 1.500 procedure contro le 835 di settembre quando il ricorso alla mediazione prima di adire un giudice ordinario era solo facoltativo in pratica si tratta del 27,3% di tutti i procedimenti depositati nei 9 mesi di mediazione volontaria soddisfatto il presidente Ferruccio Dardanello secondo il quale i dati di ottobre confermano che la mediazione può essere la leva per cambiare in meglio il volto dell'Italia di ottobre di ottobre di ottobre di ottobre di ottobre di ottobre